Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi presento una nuova collezione della San Carlo Junior, le patatine di Power Players. Eccole qua, in ogni confezione un magnete. Ecco qui Power Players, è un cartone animato che sta prendendo molto piede in Italia. Si trovano tantissimi gadget ed è stato prodotto tantissimo merchandising. Proprio su questo cartone, action figures, giocattoli e tanto altro. E adesso è arrivata anche una bella collezione di magneti fatta dalla San Carlo. Allora, i magneti in totale sono sei, eccoli qui. Quindi ci sono tutti i personaggi principali di questo cartone animato, tutti i principali buoni e tutti i principali cattivi. Eccoli qui. Eccoli qui. Aiuta Axel e i suoi giocattoli a salvare il mondo da un esercito di perfidi giocattoli con i fantastici magneti. Ecco qui. Allora, apriamo e vediamo questi magneti, come sono fatti e vediamo anche chi troviamo all'interno di questo pacchetto. Allora. Vediamo un po', eccolo qui. Vediamo un po', gli abbiamo trovato. Ecco qui. Il nostro magnete. Eccolo qui. Beh, sono fatti bene perché sono a rilievo, vedete? Sono fatti veramente molto molto bene questi magneti. Carina questa collezione. Una collezione Power Players. Finora non era, che io ricordi, non era arrivato nulla per quanto riguarda il mondo delle sorpresine. Quindi riferisco a patatine o vetti di cioccolato per quanto riguarda i Power Players. Quindi, salvo errori da parte mia, salvo errori da parte mia dovrebbe essere proprio la prima collezione di sorpresine di questo brand, Power Players. Vi faccio rivedere il magnete. Ecco qui. Insomma, una nuova bella collezione della San Carlo. Ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri video. In descrizione vi lascio anche il link tra le pagine Facebook ed Instagram. Seguitemi anche lì se volete il link del blog. Se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!